Tutte le gare in programma in questo fine settimana avranno un inizio posticipato di 5 minuti. Lo ha deciso la FGC in segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dunque il fischio d'inizio di San Lerintana a Bologna sarà alle 15.05 di domani. La squadra di Davide Nicola vuole sfruttare il turno casalingo e l'onda lunga della prestazione fornita col Milan per avere conferme sul piano del gioco ed un'ulteriore e più importante gratificazione dal punto di vista del risultato. Serve la vittoria alla San Lerintana che ha tanto entusiasmo ma poco tempo a disposizione per centrare la missione salvezza. Il Bologna è l'ex squadra di Simone Verdi e di Walter Sabatini ed ha sistemato la sua classifica con la vittoria di lunisera sullo Spezia con cui ha scollinato quota 30 in classifica avvicinandosi a quella zona tranquilla che è l'obiettivo stagionale dei Felsinei. All'andata, all'esordio in campionato, la San Lerintana fece tremare il Bologna andando due volte in vantaggio senza raccogliere punti alla fine. Al dallare apri le danze Bonazzoli sul rigore. L'attaccante di proprietà della Samp si è finalmente sbloccato alla Rechi segnando un gol da Cintec al Milan ma gli è riaccusato qualche problema muscolare che non dovrebbe comunque metterne a rischio la presenza. Verdi e Diurici saranno titolari, restano in prealarme, Musse e Michele. Anche Perotti e Riberi sono recuperati. In mediana Cassano, Sederson e Lassana Coulibaly sembrano in vantaggio sulla concorrenza. Obi potrebbe essere la sorpresa. In difesa si cercherà di stringere le maglie per subire meno in termini di gol dal passivo rispetto alle ultime due partite interne con Spezia e Milan. La prevendita procede spedita e il nuovo aumento di capienza aiuta in tal senso sia la società sia la tifoseria. Tre punti per rilanciarsi e tornare in corsa. La salaritana vuole ripartire dal Bologna, l'avversario contro cui è cominciata questa avventura dai due volti in massima serie.